benvenuti benvenuti cari amici siamo bt questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il botone like di iscrivervi al canale e per cui iniziamo subito oggi parliamo di shiba ok una nuova coin che potenzialmente potrebbe avere veramente un potenziale devastante andremo a vederla e in particolare prima di vedere questa coin però vi vorrei parlare di dogecoin perché ha delle similitudini molto ma molto forti per cui andiamo prima a vedere dogecoin mi vorrei concentrarlo sul suo grafico sulla sua nascita e poi perché shiba potrebbe fare una cosa simile a dogecoin naturalmente come sempre non sono consigli finanziari ma questo video ha solamente uno scopo di tipo educativo e culturale quindi per informarvi su questa coin poi se volete sarete voi a comprarla io vi illustrerò anche dove potenzialmente che potete comprarla e così via allora andiamo a vedere dogecoin vorrei vedere un po la sua storia innanzitutto dogecoin nell'ultimo anno ha fatto il 3278 per cento e la coin che ha avuto il maggior roio che rendimento dogecoin sostanzialmente è un progetto che non serve a nulla ok ve lo dico subito però è sotto diciamo l'ala di yellow mask che molto spesso che twitta su dogecoin e di conseguenza ha impennato il suo prezzo però il nostro amico e lo ha iniziato anche trittare su shiba e per questo che ve la voglio riportare la dogecoin sta come capitalizzazione in quindicesima posizione è una capitalizzazione di mercato di 7 miliardi ok quindi insomma una capitalizzazione molto alta però vorrei mostrarvi dove stava dogecoin qualche anno fa è nata in 2014 per tantissimi anni sostanzialmente nessuno se l'è mai filata ok se possiamo usare questo termine ha avuto quindi stava praticamente a due decimillesimi ok circa per più o meno molto tempo successivamente è arrivata addirittura a tre millesimi quindi ha fatto un 10 per e nel corso degli anni è arrivata a 2018 a un centesimo ora sappiamo che sta a 5 centesimi addirittura si parla di un dollaro ora attraverso questa analogia vedete dogecoin sui principali exchange al mondo ma anche a coinbase ora è un progetto che non serve a nulla però è raffigurante un cane per l'appunto doge qual è l'analogia con la nostra coin sostanzialmente shiba vorrei mostrarvi un attimo anche il sito web ok di dogecoin vedete c'è solamente la questa cosa qui di doge però attenzione che su doge il praticamente il sito è chiuso che non potete vedere nulla è raffigurante un cane però guardate qui che cosa c'è scritto questo è molto importante doge is an open source peer to peer digital currency favorita da shiba inus quindi questa frase ok questa frase potrebbe ok causare a shiba un aumento di prezzo secondo me esponenziale ok per cui se volete condividete anche il video che mi sembra un qualcosa importante ovviamente non sono consigli finanziari ok quindi a coin che potrebbe fare miliarda far diventare miliardari come anche perdere tutto vi dico la verità ho messo così giusto per 100 dollari ok così per divertimento e via giusto una cifra simbolica ok andiamo a vedere allora shiba shiba che cos'è shiba è simile a dogecoin cioè una coin che non serve a nulla quindi una shitcoin non ci danno la capitalizzazione di mercato io l'ho calcolata circa siamo sotto sicuramente 10 milioni ok quindi una coin molto piccola addirittura siamo in due millesima posizione guardate qui l'offerta circolante non so nemmeno dirvi il numero considerate che qua siamo a un milione un miliardo un trilione e quindi sono circa mille trilioni ok quindi questa è un po quello che sta succedendo vedete rendimenti nei ultimi 30 giorni 770 per cento quindi sono una coin che sta andando e il suo grafico sostanzialmente nasce nell'agosto del 2020 è rimasta sempre piatta e praticamente sempre a zero super pump qui ok primo febbraio poi piatta e ora potenzialmente potrebbe raggiungere secondo me anche cifre devastanti ovviamente dico potrebbe perché può succedere come anche potrebbe crollare ve lo dico subito potrebbe essere anche uno scam e quindi morire dove la potete acquistare la potete acquistare su uniswap ma vi costerà tantissimo lo swap di ethereum se li mandate attraverso il il metamask ok attraverso hotbit in questo caso potete mandare degli stellar e quindi successivamente vendere gli stellar e comprare shib oppure su one inch ma vi costerà tantissimo quindi la cosa più consigliabile è mandarla su hotbit come vedete solo su tre exchange per ora quindi potenzialmente potrebbe essere per l'appunto devastante sia in bene che male altre cose a dire vedete il sito di shib non c'è praticamente nulla vi dico la verità quando guarda io per la prima volta il sito di shib cioè circa un mesetto fa ok circa in queste zone qua addirittura anche prima dicembre gennaio che cosa era successo che su shib proprio era scritto il nulla cosmico e invece ora invece ora ho visto che c'è tanto ok stanno scrivendo veramente tanto stanno integrando però naturalmente è una coin sheet ok questo ci tengo come vedete qua vogliono fare degli incubatori per artisti addirittura e quindi vedremo un po che cosa succederà qui c'è anche il team e il team è rappresentato da questi cagnolini quindi molto simile ad oggi attenzione il nostro amico ellon si è divertito proprio i'm getting a shib inu cioè lui sostanzialmente sembra aver detto voglio comprare shib ok sto per entrare su shib semplicemente questa notizia potrebbe veramente causare pensate se hello mask va a comprare veramente tantissimi shiba potrebbe veramente causare delle cose veramente pazzesche naturalmente come vedete qui mi scrivo anche per gruppo elite che vi ricordo è aperto andiamo a vedere per cui un attimo quello che è il valore di shib ok guardate qua io ne ho un po' l'acquistai a 100 dollari guardate quanti ne ho ora vedremo che cosa succederà io li ho tanto per 100 dollari chi se ne frega vi dico la mia oggi fa il 41 per cento quindi molto molto bene al momento il prezzo non saprei non saprei definirlo però è tipo 10 alla meno 8 di 912 ok così lo definisco perché non saprei dirvi che numero è per cui vedremo un po che cosa succederà su shib naturalmente se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di sorgere il bottone like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto